Ciao a tutti i cazzi, ho avuto quest'ultimo video dat breve vlog sono anche per strada e tipo se mi vede gente sembra che sono un deficiente ma questo è un mio problema allora, non vedo un cazzo si, ok, così si vede dunque, oh, luce di merda perfetto allora non è ancora arrivato il pc però ho due nebs dunque vediamo se c'è gente di qua si, c'è gente quindi quando arriverà gente mi pare che tipo taglierò un attimo allora, ho due piccoli novità la prima è che il pc quello vecchio, ricordatelo con cui registravo è appena apparito per andare a farsi fottere o lo meno sistemano e lo do quindi a mia sorella però lo uso come mio secondo pc per non ho idea, per rita e roba del genere, non lo so o come secondo monitor boh, si può ma non credo non so se l'oggetto che lo sistemano però vabbè e seconda nebs velocissima perché faccio questo vlog velocemente ho iniziato ah, non è iniziato ho già incominciato ho già dato i soldi per prendere il pc e entro, non vedo niente, ok entro questa settimana già non c'è qualcuno dietro? no entro questa settimana qua incomincerò a ordinare pezzi che mi arriverà e mi arriverà il pc già assemblato entro 10-11 giorni più o meno questo soltanto per il case il monitor mi dovrebbe arrivare non so se lo prendo usato oppure lo lo raccatto a qualcuno quindi per il monitor vabbè non è un problema cosa sono domini un attimo che signora che passa questa parte non mi viene tagliata che bimbi deficienti vabbè questa è Verona allora il monitor è un problema mio quindi me lo comprerò più avanti mouse e tastiera li compro io ma cioè io li compro li comincio a ordinare la settimana che ci fa questa che tanto mi arriveranno due giorni teoricamente perché il computer lo prendo da un'azienda triestina e ci vuole un po' e intanto mi larga anche la webcam porco dio non si può bippare ma lasciamo stare e invece il coso il mouse e la testa la ordino da amazon quindi non ci mettono un cazzo e mi arrivano velocemente quindi entro 15 20 giorni mi è arrivato tutto il più 5 cominciamo a registrare e poi siamo arrivati a 20 no 25 35 5 mi piace sul video di fifa world incomincieremo un nuovo video con il primo video con o minecraft o solo games oppure minigame a caso quindi detto questo bella ciao